Il PD a Napoli, ma in Campania, se pensiamo a Caserta, a Castellammare, è di nuovo nella bufera, c'è la questione del tesseramento, da Roma è stato inviato l'ennesimo commissario, sembra che non se ne esca più. Si, diventa un po' una commedia dell'arte che assume anche contorni tragicomici, pensate un po' a come si è ridotta anche la camorra a Napoli per prendersi una tessera del PD, vuol dire che c'è una deflagrazione totale di tutto, noi siamo non solo osservatori ma protagonisti di questo sgretolamento, perché il PD ha avuto l'opportunità a Napoli di rigenerarsi cinque anni e mezzo fa, non l'ha colta quell'opportunità, anzi, da quello che abbiamo visto, nuove primarie, le liste ad insaputa, i tesseramenti adesso per il congresso e la segreteria nazionale, io da quello che ho visto al netto di militanti per bene, chiaramente, di chi vota PD assodendo in buona fede, a cui va anche la mia solidarietà, anche alle persone che so che fanno politica con entusiasmo all'interno di quel partito, ma la mia valutazione è che non ci sono gli elementi per poter produrre una rigenerazione interna, tra l'altro quello che doveva essere il rottamatore, l'utilizzatore del lanciafiamme, si sta arrottamando da solo proprio sulla questione morale, perché se vediamo quello che sta accadendo a Alfredo Romeo, io credo che stiamo alla fine del potere personale di Renzi e del partito personale che sta per costruire.